Gli agenti della Polizia di Stato di Battipagli hanno arrestato un 19enne del posto ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente al fine di spaccio. L'arresto è arrivato al termine di una perquisizione compiuta in località Versana, a casa del giovane. Già sospettato di spaccio è trovato in possesso di 45 grammi di hashish, un bilancino digitale e un coltello di grosse dimensioni utilizzato per la preparazione delle singole dosi da porre in vendita. Il 19enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa della successiva convalida dell'arresto.